ehi la ciurma io sono di nuovo mazzi adesso sono di nuovo su shop e keep e continuiamo questa nostra avventura sono preso super bene stra bene perché il gioco funziona per ora voglio scoprire cosa succede cosa c'è da fare pagare tasse è uno dei pochi giochi in cui è divertente pagare tasse perché se paghi tasse ottieni delle cose ma anche nella realtà se paghi le tasse ottieni le cose ma la gente se lo dimentica talvolta e quindi non le paga abbiamo davvero pochi soldi prenderei delle scarpe perché col fatto che paghiamo tante tasse non possiamo comprare tanta roba chi è questo indecente zozzone che mi rovina tutto il negozio nel mentre piove ok ho comprato l'ultimo paio di stivali proprio in tempo perché sono arrivati dei nuovi stivali mi sa che mi conviene poi fare un altro giro con l'acqua qua perché paga e ritira questi pochi soldi che abbiamo per il fatto che la metà del profitto va in tasse quindi di ogni bottiglia guadagno due e mezzo quindi posso ricomprarmi una bottiglia oh signora ma che cavolo le dice la testa danielita mannaman ma scusi un attimo porca mannaggia anche qua ma oh sto incivili di devo comprare dell'altra acqua mi sa e allora compriamo dell'altra acqua ci sto con 10 di acqua 30 ce l'abbiamo sì così andiamo a fare di nuovo la missione per il no per il nostro uomo qua allora accetta sta missione intanto per consegnare quest'acqua così ci da 100 che non sono male 100 all'inizio allora qua ne volete ancora di acqua o siete stufi ah no gliel'abbiamo consegnata di recente quindi non ne vogliono qua dietro eh sì eh sì anche quella mi sa devo andare in posti non esplorati per consegnare l'acqua tipo questa porta qua scusi le ho no e ho usato l'acqua sì qui ok ah devo fare il pane mi sono dimenticato devo fare il pane questo che abita al piano di sopra non gli ho mai consegnato acqua ok me ne mancano ancora 4 vai 3 2 datemi altre due case per piacere 1 ah no ok va bene va bene va bene va bene va bene tutto bene no mettiamo un po' di altra acqua qua che spero di aver venduto nel mentre sì e vado a fare il pane così posso andare avanti con le quest più che altro eh tra l'altro il bello è che mi avvisa là sotto quando something is being stolen infatti ma mi sa che era vecchio mi ha rubato qualcosa sì mi sa che era vecchio l'ho perso il ladro devo controllare devo controllare davvero ho il cuoco qua ok ho bisogno di 2 di grano e 1 di latte 2 facciamo 2 3 e 4 così mi mi cuoco 2 2 sì 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 2 2 craft ok qual mi stanno derubando dov'è che mi sta da che parte mi stanno derubando t'ho visto no por mmm 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 sono così furioso che frugo nella spezzatura e pago le tasse paghiamo queste tasse spero che non mi abbia rubato la maschera perchè sono sai quanti schiaffi vi vi rado al suolo la casa altro che vendervi acqua porta a porta non so mica Bruno Vespa io che faccio porta a porta ma è così rovinato mannaggia non si può stare distratto in un attimo che qua mi mi prendono a calci la mobilia questo bartello in più fa schifo non ho più stivali non ho più stivali non ho più stivali ordiniamo 2 stivali anche 4 e una maschera ci stiamo 196 al pelo ma ha detto che non paga più di 6 eeeh e l'inatta compra 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 coca cola grazie è arrivato un ordine prendiamo eeeh paghiamo le tasse e ritiriamo cos'è che ho ricevuto ah gli stivali e eeeh la eeeh maschera ok wooden shoes e la eeeh maschera che è qua va bene va bene ma donatevi dal cuoco già che abbiamo un attimo di tregua anche se il cuoco non chiude la notte potrei andarci di notte ma è appena passato cos'è sta roba watering pot ah è un'arma ok take ok ho 2 di 2 di pane andrò a mettere ah mi da delle queste adesso si ok mi chiede di fare più pane allora prendiamo 1 2 1 2 3 4 ah oddio non ho più soldi non ho più soldi non ho più soldi e quindi mi faccia un pane no eeeh oh mi perdo come something is being stolen dov'è questo farabutto le farò pentire di essere un farabutto mettiamo il pane qua eeeh però no 0 eeeh 41 va bene Mettiamo l'acqua Mettiamo Le scarpe Altre scarpe Un'altra bandana Non ho soldi Oh porca miseria Questo bug Quanto l'odio Allora mi scusi Paghiamo le tasse Mi dia tutto quello che ha Perché ho bisogno di No ho bisogno di ordinare Una ecco Bandana E ho bisogno di comprare un'altra Altre due cose di grano Per fare il pane Mi chiede di fare più pane Ah devo cuocere Dieci di pane No Perché ho comprato Di nuovo del latte Dammi Dammi il tuo pane Così Perché vado di qua Quando devo andare di là Io non lo so Non lo so Ho bisogno di provviste Comprate Comprate sto pane Dai Mi copri il pane Ottimo Mi ha comprato anche la maschera Buono Ok Non ho più niente nel negozio Devo anche pulirlo Ripariamo un po' Sto qui di stallo del pane Insomma L'hanno quasi rotto Mi sa che devo abbassare un po' Il prezzo dell'acqua Perché qua Sennò Mi sfasciano tutto Devo Devo ricoprare tutto Ma Non ho niente Mi tengo sta roba fino là Scusatemi ma Ah ok Un ordine L'avevo già fatto Che era di una bandana Però ho bisogno di Allora Paghiamo le tasse Ritiriamo 142 E ho bisogno di 4 scarpe 10 bottiglie 146 al pelo Anche sto giro Non posso comprarmi Il La roba per il pane Mi sa che si è bugato Dello sporco qua sotto Sì Ok è arrivato Il mio ordine Non credo di aver fatto Dei soldi Nel mentre però No infatti Perché altrimenti Avrei preso i soldi Per poter finire Messo questo del pane Prima o poi No abbiamo detto Gli stivali qua 4 Ok Le bottiglie d'acqua Che però Diminuiamo di prezzo Facciamo Che le mettiamo 6 E' vero che ci guadagneranno Di meno ma Se no mi rompono Tutti I piedistalli Qua Poi mi sa che Ne vendiamo di più Mettendola a questo prezzo Comunque Sì infatti Sì infatti Sono tutti i più contenti Di acquistarle Ah ho venduto La maschera Avremo dei soldi Per ricomprare Tutto Speriamo Paga Paga Dammi i soldi No Red mask Vai No Ha un altro achievement Ottimo Dovevo ordinare Anche delle scarpe Non ho più niente Non ho più niente E' già buio Alle 4 Qua Di tutto Mondo Mi scusi Riforesco Solo di acqua Il negozio Ma come Non paghi Più di 5 Dai Ma Ma Signorina La prego Si moderi Un pochetto Ok Ok Mettiamo l'ultima Acqua che abbiamo Qua E dobbiamo fare Un altro ordine Uno dovrebbe essere Arrivato Se non sbaglio Si Allora Prendiamo quest'ordine Paghiamo Le tasse Ritiriamo I soldi Vediamo se Quante ne ho 559 Me ne servono Mi 720 Cosa ordiniamo Ordiniamo Io non mi ricordo Cosa abbiamo E La fine Devo ordinare La maschera La maschera la piezziamo Intanto Devo ordinare Tutto 5 di acqua E 4 scarpe Solo 3 scarpe Riesco ordinare Non riesco a capire se riesco a mantenere questo tipo di prezzi Cioè questo tipo di tasse più che altro Perché mi sa che non sto facendo chissà quanti soldi Mi sa che sono quasi in perdita No ho preso niente Perché con quanto sto vendendo dovrei almeno riuscire a rifornire Gli scaffali Invece Mica tanto Devo Devo pagare le tasse Eh pago Più di 100 di tasse Quanto ho? E' 194 Che ci sta Con l'85 Riesco a ordinare 10 d'acqua Vai Si Non mi sento particolarmente ricco Non riesco ancora a ordinare del grano Cioè a comprare del grano E ho venduto la maschera Scusa Qualcetto 85 Era perché ho venduto la maschera No mi sembra che sto diventando più povero allora Eh sì No 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 Sto diventando povero Perché Ma si terranno il 50% di quello che È il prezzo di vendita Cioè Mi sa di sì Mi sa a sto punto di sì Vuol dire che Dovrei metterlo più del 200% Per poter mantenere una storia del genere Eh ma 50% di cosa? Scusate Informazioni Dimmi un attimo No Secondo me è sul prezzo Devo mettere Più basso Per forza Se no Non riesco a pagare tutto Mentre tu paghiamo queste tasse No Secondo me vado in bancarotta In questo modo E se mi rubano anche la roba Poi nel mentre E non ho più niente Non ho più niente Non ho più niente Mi sa che devo chiudere il negozio Quando vado a recuperare la roba Se mi rubano qualcosa Sono nella cacca Vabbè Adesso vado a recuperare E torno Però Mi conviene fare due viaggi Piuttosto Scusate 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 Quegli stivali a quanto li vendo 172% Vuol dire che ci rimettevo Con le tasse Eh sì Eh sì Beh Facciamo salire un po' Tipo a 60 No 58 Ok Perciò qua sono fregato Ma sul sema Di brutto Allora Andiamo a pagare le tasse Delle notte Non dovrebbero Ah no Delle notte Rubano di più Invece mi hanno detto Non ho abbastanza Per pagare le tasse Eh no Decisamente Sto andando in bancarotta Se devo iniziare a versare Al posto che Prendere da quello che ho guadagnato Ma Cosa che ha rovinato Questo Ma continua ad arrivare gente Vabbè Chiudo un attimo Però il negozio Adesso Perché Ehm Sperate che controllo Tra l'altro Da quanto ho registrato 22 minuti Mannaggia Allora Andiamo a cercare di sistemare Sto discorso qua Ehm Pagare le tasse E Niente Riesco a pagare adesso Ok E mi dà anche dei soldi Oh va bene Forse stiamo rientrati Dal problema Devo ordinare delle cose Ma le ordino Poi da Da là Ehm Andiamo prima A finire Sto storia del pane Poi le ordinazioni Posso farle anche per conto Vio Senza bisogno di Convocarvi Ehm No Abbiamo detto Che devo prendere 1 2 3 4 Di grano E Ah 6 2 Ok Va bene Ehm No Di qua Andiamo a vedere Cosa ordinare 4 battiglie Da qua ce le ho Che è una buona cosa Ok E poi Prendiamo 2 stivali E una bandana No non riusciamo 2 stivali E una bandana Ordino Una bandana Detto questo Io vi ringrazio Per la visione Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti